L'oclusione si aspetta, i denti si affinano, la storia man mano del cane male, sono denti a punta, fatti apposta per tagliare la carne. Quelli più chiari sono di un animale giovane, questi qua sono di adulto, sono denti fatti a pugnette, questo è il dente del giudizio, il terfomolare. L'articolazione avviene in questo modo, cioè la parte distale del femore scorre su quello che in anatomia è il piatto tibiale, cioè la parte prossimale della tibia. Questa articolazione vi dicevo che è protetta proprio perché è così delicata, non è come tra l'omero e radio e luna che si incassano perfettamente. esatto, perfetto, lo girerei dall'altra parte perché è stato così. No, no. No, no.